Proseguono con successo gli open day presso l'istituto comprensivo Renato Moro di Taranto che ha nuovamente aperto i cancelli agli alunni del futuro e alle loro famiglie. Le attività di orientamento per il prossimo anno scolastico hanno riguardato i tre ordini di scuola proposti nell'ambito dell'offerta formativa dell'istituto presieduto dalla professoressa Loredana Bucci. Nella plesso Leonida studenti e famiglie sono stati accolti nella zona teatro e nella palestra e accompagnati nei diversi ambienti di apprendimento. Non è mancata una esibizione musicale con l'esecuzione dell'inno alla gioia e musiche natalizie. Non possiamo che essere felicissimi intanto perché c'è un fermento, un fermento di genitori, di docenti e soprattutto di alunni. L'idea bella realizzata quest'anno è stato proprio quello di cambiare gli ambienti di apprendimento ogni volta in modo tale da offrire ai nostri futuri alunni un'attività di orientamento mirata e anche più consapevoli. Una scuola in cui si crede nell'impianto formativo, nella metodologia e soprattutto in un'alta professionalità. Facciamo delle sperimentazioni innovative di coding, making e robotica educativa. Nello specifico noi cerchiamo con siti e applicazioni, indipendentemente dal corso tecnologico scelto, di educare i ragazzi al pensiero computazionale.